25 agosto 1975 La mattinata per Knosso. Potevamo andar via da Creta senza bere al mito del Minotauro e di Minosse e di Arianna e Teseo? È sui banchi di scuola che si scopre il mito, sulle pagine dei primi libri colorati, con le figure della storia che resteranno impresse per tutta la vita, e non ci sono da grandi nuove illustrazioni che tengano, e così anche i miti storici vanno a far coppia a quel mito fondamentale che è l'infanzia. Ma allora c'è proprio bisogno di miti? C'è bisogno di autoinganni in realtà. Sono autoinganni i miti, autoinganni necessari però. Non lo è forse il culto dei morti? La verità è che non ci rassigniamo alla caducità della vita e non facciamo che dare corpo a voci, a suoni, a immagini e a odori, che proprio perché trascorsi o che verranno inaffidabili, quindi diventano per forza oggetto di culto. E tensione verso l'essere e il mito. Nel mito quelli che ci hanno preceduto diventano eroi per il solo fatto che hanno smesso di divenire. Allora nel mito gli eroi sono, cioè esistono. Per lo stesso motivo esistono le cose che hanno smesso la loro funzione d'uso e che han fatto la storia. Sono morte e non divengono, sono, come quelle che stanno nei musei. Tutto questo per dire che senza la morte degli uomini e delle cose il mito non esisterebbe. La memoria storica non ci sarebbe la vita. Semplicemente morire per esistere. Muore il seme di grano e diventa pane. C'è un segreto da svelare, perché anche il quotidiano e il banale della vita acquisti un valore. Proviamo a fissare un gesto, una parola, un viso, e il gesto, la parola, il viso si staglieranno all'infinito, come immortali. Anche una sigaretta sulle labbra può diventare un mito. Basta che sia spenta. Non tradisce il labirinto e sperdersi tra infiniti corridoi, infinite stanze, con un filo d'arianna che è il caldo cielo azzurro dei tetti scoperti sopra di noi. Non c'è pietra, stupida pietra, che non abbia visto, ascoltato, che non sia stata toccata da re e regine, principi e principesse, soldati e cortigiani, schiavi e aedi. Basta fermarsi un attimo, isolarsi dal vociare e dai passi profani. Ecco, diventi pietra anche tu, ti rintuzzano suoni e figure lontane. Basterebbe un fulmine di Zeus, forse, o una euridice per la quale voltarmi, fatalmente voltarmi. Nel pomeriggio una corriera ci porta ad Admissos, sette chilometri a este di Iraclio. Andiamo a spendere le ultime ore di sole e di vento, dentro un mare impazzito che sfido lo stesso, scomparendo e ricomparendo nell'acqua rabbiosa, lottando, Dio sa come, per guadagnare uno scoglio salvatore sul quale un'onda impietosita mi deposita senza danni eccessivi. Oh, non ci proverò più, o forse, sì. Ha urlato Malia nel frattempo, ha imprecato, ha chiesto disperatamente aiuto, in vano, lontani da tutti i vittimi di solitudini cercate. Né Poseidone avrebbe mosso un dito, poi il suo pianto liberatorio. Siete stardo, ecco cosa sei, è stupido anche, sì, è da stupidi morire così. Te l'avevo detto di non provarci oggi col mare. Parole di bambina dette a singhiozzo che ammutoliscono. Al diavolo la morte Malia. E la trago a me in un consolante abbraccio che placa i cuori e il respiro. Ma a me non ci avevi pensato. Lasciarmi sola sull'isola, portarmi addosso il ricordo, bel ricordo. Hai mai sentito che chi muore giovane e caro agli dèi faccio per sdrammatizzare? E non è bello poi morire nel ricordo di una donna? Posso solo chiedermi se con te sarebbe valsa la pena? E resto così in trepida attesa, ma non aspetto parole, banali parole per sguardi che tramano ininterrotti. Intorno le onde schiumano violente, sui graniti ci scogli, e ci rimbalza a intervalli una pioggia di acqua e di sale. Sono brividi ogni volta per i corpi nudi, rigagnoli di pianto per i nostri visi. Oh, parole non servono più. È quasi sera ormai. Le uniche tracce sulla batigia della lunga e deserta spiaggia sono quelle dei nostri piedi. Sono calmo, sono disteso, sono buono, sono tenero. E non mi risparmio parole e versi che recito al vento e a due occhi di bambina in braccio. Occhi dorati al sole che se ne va. Occhi